Presidente Vagliasindi, questi due anni la pandemia, le criticità di fare giustizia in questo tempo? Nonostante le criticità e a fronte di un'emergenza sanitaria che ha sferzato la giurisdizione inesorabilmente, la Corte di Appello di Caltanissetta, che è rimasta contenitore dei processi cosiddetti di terzo livello di terrorismo mafioso dell'area palermitana, proprio in quest'anno, ha depositato le sentenze dei processi Capaci Bis e Borsellino Quater, ma soprattutto la sentenza Borsellino Quater ha ricevuto il suggello definitivo della Corte di Cassazione, che ha pienamente confermato e quindi in via definitiva la statuizione della Corte di Assise d'Appello. Quindi la Corte di Appello di Caltanissetta continua, non arretra, non si ferma, nonostante la mafia, continua a imperversare e soprattutto a volersi schermare ancora una volta dietro la virulenza di Covid-19. Il Palazzo Accanto ha ancora tanto lavoro da fare per l'ampliamento del Palazzo di Giustizia, una battaglia che lei ha combattuto in prima persona. Ed è una battaglia nella quale non mi arrendo perché continua la mia interazione forte con il Proveditorato per Repubbliche Sicilia-Calabria e soprattutto con il Ministero della Giustizia, che sento di dovere ringraziare per come è intervenuto a sostegno della città di Caltanissetta. L'ampliamento del Palazzo di Giustizia è fondamentale, soprattutto per la qualificazione del decoro urbanistico della città di Caltanissetta e il fallimento di quest'opera pubblica sarebbe un terribile riscontro a livello nazionale dell'insuccesso degli appalti che sono stritolati dalla burocratizzazione da iter complessi e vischiosi. Occorre assolutamente intervenire e lo ha segnalato con prepotenza l'esigenza degli spazi durante questa emergenza pandemica straordinaria. La questione di Rizia è cruciale all'interno di tutti i palazzi di giustizia, come lo è anche nel settore delle carceri. È molto importante che passi un messaggio forte e chiaro. È importante che siano attivate le RENS. È inammissibile che in Sicilia ci siano soltanto due strutture di RENS, sicché il detenuto, malato, infermo di mente e persona non può usufruire di alcun percorso alternativo alla detenzione.